I nuotatori dell'agonistica e della pre-agonistica sono potuti tornare nella loro piscina. Il palazzetto del nuoto di Viale Gramsci ad Arezzo è infatti riaperto con tre giorni di ritardo sulla tabella di marcia per via di un guasto tecnico. La struttura era chiusa ormai da mesi dopo che il gestore si era rifiutato di applicare la normativa sul Green Pass e il comune di Arezzo aveva, nella persona del sindaco Alessandro Ghinelli, firmato un'ordinanza di chiusura. Il problema è stato superato perché il gestore ha ora delegato la Chimera Nuoto o anche tutte le altre associazioni che vorranno affittare lo spazio acqua a chiedere il Green Pass. In questo momento la struttura è aperta solo per l'attività agonistica. Per quello che riguarda invece l'apertura al pubblico se ne riparlerà il 2 di maggio, quando non sarà più necessario chiedere il Green Pass.